Il calcio a 5 femminile Il calcio a 5 femminile Il calcio a 5 maschile Il calcio a 11 Quindi durante gli allenamenti Che si stanno disputando in questo momento Con le ragazze che si stanno preparando Per la partita che si svolgerà qui al palazzetto Domenica prossima Noi apriamo questa anteprima Con delle novità Del panorama nostro locale Quindi oltre il calcio a 5 femminile Sappiamo che quest'anno La squadra Tra virgolette Che ci rappresenta maggiormente La squadra di calcio a 11 maschile Quindi le aguile calatine La lieta notizia Sono state ripescate nel campionato di promozione E quindi abbiamo la piacevole notizia Di avere quest'anno una grande squadra in promozione Con dei nomi importanti Che fanno parte della rosa Di mister Samuel Boncompagni Il nuovo tecnico Che domenica pomeriggio Affronteranno l'Adrano in casa Alpino Buongiorno Dopo la sconfitta Inmeritata Inmeritatissima E cos'eredire Di Domenica In quel di Catania Contro il Dagata Una sconfitta che ha tutto Il sapore di una beffa E per quanto riguarda invece Il panorama Diciamo Del nostro stesso campionato L'augurio Che facciamo alla squadra di Boncompagni Non solo di disputare un buon campionato Ma tra l'altro Si misurerà quest'anno Con piazze importanti Come Ragusa Vittoria Paternò E Noto Quindi è un campionato Che gli sportivi Sicuramente si stanno Riappassionando nuovamente E' una squadra che addirittura Come nomi Facciamo solo per citarne uno Brevemente Nicola Polessi Che è un grande ritorno Ottavio Nicotra Quindi giocatori che Che sono tornati alla grande Nella squadra Biancorosa Tra cui anche Micro X Ragusa Per quanto riguarda invece Il campionato di prima categoria Nel Calatino abbiamo solo Il Militello Che ci rappresenterà quest'anno Quindi facciamo un augurio Alla squadra del Presidente Gambera Che quest'anno Rappresenterà il territorio Nel campionato di prima categoria Nel campionato di promozione Abbiamo l'Eubea Che è una nostra stessa Zonale Diciamo Chiamiamola così E quindi Milita nel campionato di promozione Che ci rappresenterà E quindi già il derby C'è stato E finito 0-0 All'andata E ci sarà poi Quello ovviamente Del girone di ritorno Io con Per prima di concludere Facciamo invece un augurio Visto che ci troviamo qui Proprio al palazzetto Alle ragazze Che veramente Le ragazze bianco-rosse E questa è una bellissima novità La squadra di femminile Che ci rappresenta La città della ceramica La nostra squadra Quindi un augurio Alle ragazze E al mister E a Osili Ecco siamo in compagnia Nel dopo allenamenti Con le due calciatrici Della squadra di calta girone Di calcio a 5 femminile Campionato di Serie C1 Con Vanessa e Federica Allora Federica Il capitano Ruolo? Il mio ruolo è il difensore Mentre Vanessa? Provo a fare l'attaccante Ecco l'attaccante Ragazze Se ci date Diciamo una breve Breve storia Diciamo di questa squadra Quando è nata E la vostra passione Sul calcio a 5 Allora Il tutto è nato Tre anni fa Come gioco Giochiamo Facciamo qualche partita Facciamo qualche partita Finché Mi ho trovato il mister Mister secondo Non so se lo conoscete Certo Famoso Infatti Il tutto è iniziato con lui Abbiamo iniziato a giocare Facendo il primo campionato Sì E l'abbiamo vinto Poi abbiamo fatto il secondo campionato L'abbiamo vinto E quindi abbiamo deciso Di salire un po' di categoria Fino ad arrivare a oggi Che siamo arrivati in Serie C Con il campionato FGC E niente Abbiamo fatto Prima di tre partite Purtroppo sono andate male Ovviamente Ci stiamo scontrando Contro persone Che sono un po' Di livello superiore Più esperienza Ecco in questo campo Ovviamente ci stiamo affrontando Ci stiamo confrontando Con squadre in realtà importanti Come Messina Palermo Quindi giustamente finalmente Certo Più forti sono Meglio si gioca Si impara Così è A proposito di Messina Domenica Purtroppo la sconvitta Di tre uno Meritato o immeritato? Allora Bravi le nostre avversarie C'è da dire che Noi potevamo fare molto di più Molto di più È andata così Esperienza Ci serve per dare più forza In questa ultima partita Anche perché Questi muti ci servono Ecco E quindi Domenica si gioca contro il? Domenica giocheremo contro Silvirtus Racusa E ovviamente ci siamo allenate Stiamo Cercando di migliorare qualcosa A livello tattico E siamo pronte per Batterle Ci vediamo Ecco Vanessa A che ora si gioca? Domenica? Alle 18 Qui al palazzetto Volevo fare un invito a tutti Anche perché Purtroppo È poco sentito Cioè Qualcuno non sa neanche Che esistiamo in realtà Ed è un peccato Anche perché noi La passione ce la mettiamo tutta Ecco quindi è una realtà nuova Perché ovviamente si parla sempre di calcio a 11 maschile Calcio a 5 maschile Quindi però Credo che è una bella realtà Finalmente avere la scuola di calcio a 5 femminile Non sembra da meno Poi tra l'altro Oltre questo È una cosa bella Perché siamo in un campionato importante Quindi siamo in C1 Quindi non è un campionato di poco conto Ci misuriamo con grandi realtà Quindi Messina, Palermo, Racusa Domenica c'è questo derby Che per i maschi Tifosi calatini Per il calcio a 11 È stato sempre molto sentito Caltagino e Racusa Dei vecchi tempi Io parlo di calcio a 11 Ad oggi è ancora così Non è cambiata la storia Credo che sia il motivo in più Per domenica Per venire a tifare Per le nostre ragazze bianco-rosse E quindi credo che sia un motivo in più Per le ragazze invece Tutte di Caltagino Non c'è qualcuno di fuori Abbiamo una ragazza di Vizzini E un'altra ragazza di Mineo E basta E poi basta Tutte calatine del resto Ecco, l'ultima battuta con tutte e due Faccio la stessa domanda Il mister Ausilio Severuccio o Bravino? Mister Ausilio Mister Ausilio Non è un ottimo allenatore Mister perfetto Non si può dire Sì, lo dico È un ottimo allenatore Perché questa domanda? Perché praticamente Siccome è abituato a vederlo Sempre conosco abbastanza bene Per Ausilio È stato sempre un ottimo elemento Sia come allenatore Che giocatore Nel calcio a 11 Ha avuto pure qualche passato Nel calcio a 5 maschile Cioè calcio a 5 però maschile Quindi è la prima volta Che allena delle ragazze Quindi magari dico Speriamo che fai il bravo C'è il senso Nel senso buono della parola Nel senso buono Nel senso che è sempre un bravo tecnico Sì, sì Invece ci troviamo benissimo Anche perché ci allena Come giocatrici Non come donne O come ragazzi Quindi già questo è importante E poi inoltre ci sostiene E questo per un mister Per noi è molto importante Quindi speriamo di andare avanti E di dargli qualche soddisfazione Ecco Ecco va bene Io possiamo ora magari Ci accingiamo a presentare Alcune componenti della squadra Se ci sono E nel frattempo Li possiamo anche chiamare La partita di domenica 3 a 1 È stata combattuta Poi il Messina era troppo forte Allora Ci siamo scontrate Contro delle persone Che comunque Sapevano posizionarsi in campo Erano ai nostri livelli Però purtroppo Abbiamo perso E come ambiente Era in pieno il palazzetto a Messina C'era molta gente Oppure poca gente Devo dire che rispetto a noi Loro lo sentono di più Cioè nel senso C'era più gente Più appoggio Ecco Noi purtroppo ripeto C'è questo piccolo problema Che credo che piano piano Comunque se noi facciamo strada Chi c'ha passione ci segue Per il resto Abbiamo giocato poi Con un'altra squadra Sì Forti anche loro In Palermo Però Noi siamo da meno Io penso questo Penso solamente Che ci deve essere Dobbiamo essere Solo un po' più per il limite Basta Ecco per concludere Tre partite Sono state solo tre partite Inizio campionato Quindi purtroppo Abbiamo solo Abbiamo zero punti Stiamo pagando lo scotto Di questo nuovo campionato Quindi Domenica Domenica è obbligatoria La vittoria a questo punto Quindi vincere la prima partita Speriamo Quindi praticamente Se possiamo fare una presentazione Presentiamo velocemente Un po' le ragazze Per questa prima volta Il nome Manessa Ruolo Attaccante Ci prova Vediamo Vediamo le altre ragazze Ruolo Difensore Nome Nives Corinne Laterale Laterale Poi Amerio Corriere laterale Di Vizzini Ruolo Nome Sebbiana Attaccante Laterale Laterale Ragazzi Dico una cosa Lo so che non si parla mai male Del mister Anche se in questione Assente per motivi personale Ma come questo Toto Ausilio Che è stato sempre L'ambiente maschile E' un bravo allenatore Anche con le ragazze Oppure Una battutaccia Una battutaccia Dietro le spalle Di Ausilio La possiamo fare Oppure no Non si tradisce Non si tradisce il mister E' severo E' severo o no Severo E' giusto E' giusto Quindi mi raccomando Domenica l'appuntamento E' a che ora Alle 18 Alle 18 contro il Ragusa Virtus Ragusa Sì Virtus Ragusa Ovviamente per vincere Ovviamente Ovvio Quindi noi salutiamo le ragazze Facciamo un in bocca al lupo E speriamo che le prossime volte Magari a 1 a 1 Diciamo analizziamo la vostra storia Perché non so se tutti avete giocato a calcio a 5 Oppure avete dei precedenti In realtà la squadra E' nata 3 anni fa E' iniziato tutto come un gioco Formiamo questa squadra Formiamo questa squadra Finché alla fine siamo arrivati qui Quindi quest'anno cerchiamo di fare ottimi risultati Soprattutto per noi Certo Più che altro Quindi rappresentate i nostri colori bianco-rossi Nella nostra città Quindi Qualcosa per Caltagirone Qualcosa per Caltagirone Dico ma tutte di Caltagirone Qualcuno a parte di Vizzini Poi Mineo Mineo Quindi mi raccomando Dico allora Forza Caltagirone Calcio a 5 femminile Allora siamo in compagnia con il tecnico Ausilio Quest'anno la nuova esperienza di calcio a 5 femminile Quindi Totò si affaccia Sempre un uomo di sport E non è di Caltagirone Però chi lo conosce Lo conosciamo tutti Ma con il calcio a 5 È già un'esperienza maschile Ora Come mai questa esperienza Col calcio femminile Come stai benissimo Facendo calcio a 5 maschile Giustamente Ti viene il pallino Di continuare a fare qualcosina C'era la proposta Delle acule carlatine Di allenare le ragazze Quindi Mi ho detto Va bene Mi duffo in questa avventura Dato che Avevo fatto questa esperienza A livello maschile Proviamo con le ragazze Quindi Ausilio Ovviamente Per chi lo conosce Che lo conosce molto È calcio a 11 Veterano E quindi È sempre un uomo di sport È la nostra bandiera Io mi permetto di dire Bandiera dei colori bianco-rossi Della nostra città Quindi Ausilio Giacomo Messina Massimo Parisi Ormai Chi non li conosce A livello locale Nessuno Quindi Nessuno non li conosce Tutti li conosciamo Quindi Credo che Lui sempre Il tocco Nella nostra città Lo dà sempre Quindi se non è il calcio a 11 È il calcio a 5 maschile Ora addirittura È il calcio a 5 femminile Quindi comunque È sempre impegnato Nello sport a Caltaginone Questo te ne diamo atto E ti ringraziamo Perché sei veramente Una persona splendida Non solo professionalmente Ma anche come ragazzo Come uomo E quindi Ti sei cimentato In questa esperienza femminile Con i nostri colori E quindi dai sempre Un contributo Alla nostra città E quindi Con le ragazze Che differenza c'è È più facile allenare gli uomini O allenare le ragazze Le donne o gli uomini Ecco No no L'allenamento è uguale Poi alla fine Giustamente Le ragazze ci mettono Il loro impegno Quindi Magari qualcosina In più Rispetto Giustamente Un po' di più sacrificio Da parte loro Perché giustamente Il calcio E il calcetto È uno sport Molto di rapidità E quindi Molto di tecnica Quindi ci deve essere Un po' più di impegno Rispetto Ai maschi Però ti fanno Arrabbiare Questi ragazzi No no Assolutissimamente Anzi Sono bravissime Sono bravissime Quindi Per concludere Domenica pomeriggio L'impegno contro Contro Ragusa Alle 18 qui al palazzetto Speriamo bene Anche perché giustamente Veniamo da tre partite Dove non abbiamo raccolto Nessun punticino Ci proviamo domenica Speriamo che Ci ha una di buona Quindi L'impegno con la Virtus Femmire Quindi non ho problemi Io non voglio dire altre cose Però mi permetto così Tra virgolette Ho saputo tante richieste Via internet Non facciamo Nel nome di società Ma ho saputo Che sei stato sempre richiesto Come allenatore Di calcio In questa zona Però l'ausilio Per chi non lo sappia Ha sempre la tendenza Di rimanere nella nostra città Non si allontana mai Vero o falso? Sì sì no È vero Anche perché giustamente Tu mi conosci bene Io sono un po' all'antica Quindi non Gli altri Giustamente Mi ribattono sempre Per i nostri colori Soprattutto Io se devo dare Il mio contributo Lo do a Caltagirone E non fuori paese Da servire come esempio A consiglio Grazie Io ora Buon lavoro Mister Sì Allora Corinne Corinne Ruolo nella nostra squadra? Laterale Quindi laterale Prima esperienza Non credo no? No Già Gioco da quando sono piccola Però C'è 4 anni che gioco qua In questa squadra Caltagirone Quindi hai vinto 3 campionati consecutivi No? Sì 3 campionati consecutivi Vabbè Questa è la prima esperienza In PGC Perché Cioè Essenzialmente Anche il livello è diverso È più difficile Vedremo quest'anno Almeno Noi ci crediamo Sì Vi state misurando Con squadre importanti Come dicevo Le altre ragazze La scorsa intervista Con squadre come Del calibro di Messina Palermo Quindi domenica Ci sarà il Virtus In Ragusa Quindi seppur Calcio femminile Però Ci impegniamo Ci confrontiamo Con grosse realtà Di grosse città Quindi credo che sia Per voi ragazze Un motivo di vanto Di orgoglio Non solo indossare I colori bianco-rossi Della nostra città Ma E quindi portare avanti Il calcio a 5 femmini Della nostra città Ma è un motivo di vanto Anche confrontarsi Con queste realtà Sì sì Anche perché Essendo squadre Che scendono Molte dalla Serie A Serie A elite Comunque squadre Molto più forti rispetto a noi È molto più difficile E ci dobbiamo impegnare Di più ovviamente Quindi per domenica Tu sicuramente Sarai in campo Sì sì Penso di sì Rientro da un infortunio Ora però Sì sarò in campo Speriamo bene Domenica Di brindare la prima vittoria Quindi Ti facciamo Un in bocca al lupo E buon lavoro Grazie Grazie Una buona serata Ci risentiamo E buon lavoro